pace e bene a tutti i nostri telespettatori i titoli di questa edizione del nostro telegiornale il papa a santa marta la vena armonia viene dallo spirito santo papa francesco mostra l'esempio dei primi cristiani iraq acs i cristiani hanno bisogno della nostra reale presenza si è conclusa la missione tra i profughi ad erbil libano leader cristiani contro il vuoto presidenziale durante il vertice intercristiano si è parlato inoltre dei conflitti in medio oriente e dell'esodo dei cristiani da siria e iraq giappone ritrovati i resi di padre sidotti l'ultimo missionario italiano insollevante dell'abbate siciliano giunto nel paese nel periodo delle persecuzioni cristiane si erano perse le tracce da circa 300 anni papa francesco ha incontrato bernard fellai superiore delle freviani la notizia diffusa dal quotidiano il foglio è stata confermata dalla santa sede incontro positivo e buona intesa tra i due parigi firmata carta per l'abolizione universale della maternità surrogata l'accordo siglato nella sede dell'assemblea nazionale di parigi da rappresentanti di scienza politiche associazioni e per finire notizie di casa nostra passiamo alla prima notizia il papa santa marta la vera armonia viene dallo spirito santo altrimenti è tranquillità ipocrita durante l'umilia del mattino papa francesco mostra l'esempio dei primi cristiani che mettevano in comune i loro beni e rammenta dio e il denaro sono inconciliabili nella seconda umilia matutina di questo tempo pasquale papa francesco conferma la sua capacità di cogliere le sottili differenze terminologiche della vita ecclesiale un conto ha spiegato e parlare di armonia frutto dell'unità dono dello spirito santo altra cosa invece è la tranquillità frutto di ipocriti e poco coraggiosi compromessi che di fatto non risolvono le divisioni durante la messa a santa marta il pontefice ha ricordato come già nell'antico testamento si parli di armonia tema nient'altro scontato visti intemperamenti impulsivi che regnavano nelle prime comunità cristiane peraltro spesso eterogenee sul piano culturale solo lo spirito santo ha spiegato il santo padre può portare la grazia interiore dell'armonia ed è il segno concreto di ciò che si riscontra nel fatto che tra i primi cristiani tutto era in comune nel senso che avevano un solo cuore una sola anima e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva in questo scenario il denaro è egoista ed è nemico dell'armonia anche per questo tutti davano il loro perché non ci fossero i bisognosi un po come fa barnaba che vende il suo campo e consegna il ricavato agli apostoli l'esatto contrario è quanto avviene con anania e safira che dopo aver venduto anche loro un terreno ne trattengono una parte del denaro ricevuto e pagano la scelta con la morte tutto ciò a dimostrazione del fatto che dio e il denaro sono due padroni il cui servizio irriconciliabile passiamo alla prossima notizia iraq acs e cristiani hanno bisogno della nostra reale presenza si è conclusa la missione tra i profughi ad erbil in collaborazione con monsignor cavina monsignor suetta e don massimo fabri un'esperienza resa indimenticabile dalla forza la serenità e la dignità dei fedeli iracheni così il direttore di aiuto alla chiesa che soffre italia alessandro monteduro al ritorno da un viaggio ad erbil nel kurdi san iracheno dove ha trovato alloggio una parte consistente dei 120.000 cristiani fuggiti da mosul e dai villaggi della piena di ninive nel 2014 a causa dello stato islamico la fede che sostiene questi nostri fratelli nonostante vivano ancora in condizioni drammatiche coinvolge in un modo unico ha spiegato monteduro migliaia di loro in container da 12 metri quadrati con servizi igienici in comune mentre i più fortunati hanno trovato alloggio in casi in affitto che accolgono fino a 3-4 famiglie monteduro era accompagnato dal vescovo di carpi monsignor francesco cavina dal vescovo di ventimiglia san remo monsignor antonio suetta e da un rappresentante dell'arcidiocesi di bologna don massimo fabri con i quali ha visitato alcuni campi profughi della città è sorprendente la gratitudine mostrata dei rifugiati nel riguardo di un occidente che con i suoi popoli e non con i suoi governi ha consentito loro di trovare una sistemazione per quanto disagiata ed un sostegno quotidiano ha proseguito il direttore di acs italia la delegazione inoltre ha visitato le diverse scuole che sono state realizzate in pochi mesi per permettere ai piccoli di continuare a studiare l'istruzione di migliaia di bambini cristiani è certamente la pagina più bella del sostegno di acs in iraq una scommessa nella quale a generosità dei benefattori occidentali ha meravigliosamente vinto incontrare i sorrisi dei bambini ascoltare le loro preghiere anche in italiano è qualcosa che tutti noi non potremo mai dimenticare inoltre ha sottolineato in particolar modo la qualità delle strutture il livello dell'insegnamento e soprattutto l'amore delle religiose specie le suore domenicali di santa caterina da siena che gestiscono la maggior parte degli istituti il direttore di acs definisce il ruolo della chiesa eroico perché sostenuta da numerose organizzazioni occidentali si è fatta carico in modo pressoché esclusivo delle conseguenze del genocidio come direttore di acs italia sono orgoglioso di sapere che la nostra fondazione è quella che più aiutato la chiesa irachena oltre il 60 per cento delle donazioni giunte in kurdistan sono infatti di aiuto alla chiesa che soffre un orgoglio che voglio condividere con i reali protagonisti i nostri benefattori che hanno donato ai cristiani irachieni una casa del cibo da portare in tavola e che permettono ai loro figli di continuare a studiare e sperare nel futuro passiamo alla prossima notizia libano leader cristiani contro il vuoto presidenziale durante il vertice intercristiano si è parlato inoltre dei conflitti in medio oriente e dell'esodo dei cristiani da siria e iraq riferimento allo stallo politico che vive libano da quasi due anni e impedisce l'elezione del nuovo presidente della repubblica nonché alle crisi che interessano palestina iraq siria e iemen gli affatti domenica scorsa il patriarca di antiochia dei maroniti beccara rai durante la santa messa nella festa della misericordia è inutile sperare di salvare il libano se la misericordia non abita nei cuori dei nostri dirigenti ha detto il cardinale sottolineando che la fede cristiana deve riflettersi nelle opere come riferisce alla radio vaticana la situazione in libano e in tutto il medio oriente è stata al centro del vertice intercristiano con l'obiettivo di definire una posizione comune delle comunità cristiane libanesi sulle varie questioni sul tavolo dalla vacanza presidenziale all'accoglienza dei profughi passando per il terrorismo il fondamentalismo e i conflitti nella regione nel comunicato finale della riunione i leader cristiani libanesi ribadiscono l'urgenza dell'elezione del nuovo presidente sottolineando che il voto presidenziale grava pesantemente sul funzionamento delle istituzioni dello stato inoltre essi denunciano ancora una volta l'esodo dei cristiani della siria e dell'irac che paragonano al genocido degli armeni sotto l'impero ottomano quanto all'emergenza rifugiati che ormai hanno superato la cifra record di 2 milioni tra siriani iracheni e palestinesi le chiese cristiane libanesi invocano una soluzione politica che permetta il loro ritorno nei rispettivi paesi in quanto il libano non è più in grado di accoglierli infine il comunicato esprime critiche nei confronti dell'ipotesi di una divisione della siria su basi confessionali in quanto avrebbe ripercursioni sul confinante libano unica realtà multi confessionale del medio oriente passiamo alla prossima notizia giappone ritrovati i resti di padre sidotti l'ultimo missionario italiano in sollevante dell'abbate siciliano giunto nel paese nel periodo delle persecuzioni cristiane si erano perse le tracce da circa 300 anni ieri la conferma delle autorità niponiche c'è la certezza quasi assoluta che resti ritrovati nel 2014 durante gli scavi in una zona di tokyo appartengano a padre giovanni battista sidotti l'ultimo missionario nel paese di cui si erano perse le tracce per circa 300 anni le osse erano state ritrovate nell'estate del 2014 durante i lavori di costruzione nel quartiere di chi ricchi stanno di accarci a modigai meglio conosciuto come la prigione dei cristiani la conferma è giunta nell'autorità niponiche guidate dal sindaco del quartiere di bunkio q irobu nakirako al termine degli approfonditi studi effettuati da un team multidisciplinare di esperti guidato dal laboratorio del museo nazionale di scienze e di tecnologia la certezza quasi assoluta è data dal confronto tra risultanze documentali e analisi del dna attraverso cui gli studiosi hanno escluso che si tratti di un giapponese indicando invece le origini in un ceppo toscano nato a palermo la batte sidotti partì da roma per il suo levante dove vi arrivò nel 1708 nel periodo del cosiddetto sakoku la chiusura ermetica del paese al resto del mondo a quell'epoca il regime shogun aveva deciso di proibire a tutti gli stranieri di entrare nel paese e a tutti i giapponesi di recarsi all'estero pena alla morte in questo regime di terrore e persecuzioni era stato bandito il cristianesimo sidotti fu pertanto catturato molto presto imprigionato dopo una serie di interrogatori che consentirono al giappone di conoscere la religione cattolica la geografia e la storia dell'europa morì di stenti nel 1715 a 46 anni dopo aver dopo essere stato gettato in una fossa vicino a quelle di una copia di sposi i suoi guardiani che aveva convertito durante la prigionia circa 150 anni fa fu scoperto un libro che parlava di lui passiamo alla prossima notizia papa francesco ha incontrato bernardo fellai superiore delle freviani la notizia diffusa dal quotidiano il foglio è stata confermata dalla santa sede incontro positivo e buona intesa tra i due questa volta è avvenuto davvero lo scorso sabato 30 marzo papa francesco ha incontrato in vaticano monsignor bernardo fellai superiore generale e diretto successore di monsignor marcelle fevre alla guida della fraternità sampio decimo la notizia è stata diffusa dal quotidiano italiano il foglio è confermata in mattinata dal vice direttore della sala stampa vaticana greg burk già nel dicembre del 2013 il sito anglofono rorate cieli aveva parlato di un incontro tra il papa e il superiore generale a santa marta in realtà si trattava di un breve saluto avvenuto nel refettorio della casa vaticana dove il somo pontefice dimora in occasione di una visita a roma di fellai e dei suoi assistenti su richiesta della commissione ecclesia dei nulla a che vedere dunque con l'appuntamento di sabato che invece ha registrato un vero e proprio colloquio tra francesco il presule svizzero dal tono decisamente positivo come riferito dal foglio che parla pure di una buona intesa tra i due da parte sua papa bergoglio aveva compiuto un gesto di grande appianamento concedendo ai cattolici la facoltà di confessarsi anche presso sacerdoti le freviani durante il giubileo nella lettera del primo settembre inviata a monsignor rino fisichella con la quale congeteva l'indulgenza per l'anno santo il papa scriveva un'ultima considerazione è rivolta a quei fedeli che per diversi motivi si sentono di frequentare le chiese ufficiate dei sacerdoti della fraternità san pio decimo quest'anno giubilare della misericordia non esclude nessuno da diverse parti alcuni confratelli vescovi mi hanno riferito della loro buona fede e pratica sacramentale unita però al disagio di vivere una condizione pastoralmente difficile confido diceva il santo padre che nel prossimo futuro si possano trovare le soluzioni per recuperare la piena comunione con i sacerdoti e superiori della fraternità nel frattempo mosso dall'esigenza di corrispondere al bene di questi fratelli per mia propria disposizione stabilisco che quanti durante l'anno santo della misericordia si accosteranno per ricevere il sacramento della riconciliazione presso i sacerdoti della fraternità san pio decimo ricevano validamente lecitamente la soluzione dei loro peccati un passaggio questo molto apprezzato a icone dove a sede la fraternità che in un comunicato esprimeva la sua riconoscenza al pontefice per questo gesto paterno apprezzato è dunque pure l'incontro di sabato che secondo diversi esperti costituisce un passo avanti verso il riconoscimento canonico della fraternità da parte della santa sede la forma sarebbe quella di una prelatura costituita ad hoc sul modello dell'opus dei quindi con campi margini di autonomia non solo organizzativa passiamo alla prossima notizia parigi firmata carta per l'abolizione universale della maternità surrogata l'accordo si grato nella sede dell'assemblea nazionale di parigi da rappresentanti di scienza politiche associazioni è stata firmata martedì 2 febbraio a parigi una carta per proporre agli stati europei l'abolizione universale della maternità surrogata o utero in affitto l'accordo è stato siglato nella sede dell'assemblea nazionale di parigi organizzazione impegnata nella difesa dei diritti umani e della famiglia dei rappresentanti del mondo politico dell'associazionismo e della comunità scientifica europea che ritengono ingiusta e lesiva questa pratica in particolare nella carta viene denunciato l'utilizzo degli esseri umani il cui valore intrinseco e la cui dignità sono cancellati a favore del valore d'uso o del valore di scambio e si chiede l'abolizione della pratica della maternità surrogata a livello internazionale chiediamo alla francia e agli altri paesi europei si legge nel documento di rispettare le convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino di cui sono stati firmatari e di opporsi fermamente a tutte le forme di legalizzazione della maternità surrogata sul piano nazionale e internazionale. Noi chiediamo inoltre in nome dell'uguale dignità di tutti gli esseri umani che essi agiscano con fermezza per abolire questa pratica a livello internazionale in particolare promuovendo la redazione, l'adozione e l'efficacia messa in pratica di una convenzione internazionale per la bonizione della maternità surrogata. Passiamo ora le notizie di casa nostra. Un sì per tutta la vita fra Pierangelo Cadoni ha emesso la sua professione perpetua. Sabato 2 aprile fra Pierangelo Cadoni di Mara nel Meilogu in provincia di Sassari ha fatto la sua professione perpetua nelle mani del ministro provinciale padre Giovanni Azzori. La solenne celebrazione ha avuto luogo nel santuario campestre di Nostra Signora di Bonuiginu nel territorio del comune di Mara. Qui il 2 aprile scorso si sono ritrovati in tanti per partecipare alla professione di fra Pierangelo. La sorpresa è stata grande per tutti, una campagna bellissima incontaminata e incastonato nel verde il santuario di Nostra Signora. Non una chiesetta ma una chiesa monumentale con una facciata fastosa di stile barocco risalente al XVII secolo e affiancato dalle cumbessias i tradizionali alloggi per i pellegrini. La celebrazione era fissata nel pomeriggio alle ore 17 e 30. Caso più unico che raro erano presenti anche due vescovi, quello di Alghero Bosa, Monsignor Mauro Maria Morfino e il suo predecessore Monsignor Giacomo Lanzetti, dal luglio scorso di missionario per motivi di salute da vescovo di Alba in Piemonte, dove era giunto dopo aver guidato la diocesi di Alghero Bosa. Per questa ragione la celebrazione era presiuta non dal ministro provinciale, come era previsto dalla tradizione, ma dal vescovo Morfino, ad animare il rito i chierici diocesani e i giovani confratelli di Fra Pierangelo. Ma a integrazione del repertorio dei canti liturgici c'era il coro del gruppo folk di Mara, tutti col tipico costume sardo, ma soprattutto con le loro voci pastose, così adatte a interpretare i canti a tenores. La liturgia del giorno era quella della domenica in Albis e il vescovo, da par suo, ha rivolto ai partecipanti una splendida omelia. Al termine dell'omelia ha avuto luogo il momento clou della celebrazione, la professione di Fra Pierangelo nelle mani del ministro provinciale. Dopo l'invocazione dei Santi, seguita da lui con la prostazione sul pavimento della chiesa, Fra Pierangelo ha emesso i suoi voti perpetui. Io, Fra Pierangelo, faccio voto a Dio Padre Santo e Onnipotente di vivere per tutto il tempo della mia vita in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità, e insieme professo la vita e la regola dei frati minori, confermata da Papa Onorio, promettendo di osservarla fedelmente secondo le costituzioni dell'ordine dei frati minori Capuccini. Seguiva poi l'abbraccio del padre provinciale, dei confratelli, dei parenti più stretti e dopo la messa dei tanti presenti. Auguri a Fra Pierangelo. Il nostro Tg è terminato e ci congediamo da voi salutandovi col saluto francescano di pace e bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.